Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 1 marzo. Ariete, Mercurio vi dice che dovete esprimere le vostre idee, i vostri progetti sul lavoro, ma solo con persone fidate. Presto otterrete dei grandi risultati. Toro, bella questa luna che vi consente quantomeno di essere meno aggressivi nei confronti degli altri. In questo periodo siete un po' impazienti, ma l'amore è fantastico. Gemelli, avete sempre ottime occasioni per la vostra carriera, ma sappiate che oggi ci sarà molto da lavorare per ottenere i risultati che sperate. Cancro, la giornata parte con il piede, giusto, potete subito affrontare e risolvere problemi che hanno a che fare con le carte bollate. L'amore recupera smalto. Leone, datevi da fare, la luna odierna è buonissima per chi tratta affari immobiliari, per chi ha la ricerca di una casa. Gli investimenti fatti quest'oggi saranno indovinati. Vergine, una giornata che nasce sotto i migliori auspici grazie ad una bella luna. Approfittatene per mettere in chiaro alcune questioni che riguardano il lavoro. Bilancia, luna difficile, la giornata sarà un po' in salita, ma spesso siete voi a creare problemi nell'ambiente di lavoro, non siete capaci a tenere la bocca chiusa. Scorpione, la luna porta buone notizie e vi mente in comunicazione con persone che possono aprirvi strade importanti sul lavoro. Accettate ogni proposta. Sagittario, la cosa che vi disturba è dover affrontare lunghe discussioni sul posto di lavoro. Preparatevi ad essere messi sotto pressione, le prossime settimane saranno stressanti. Capricorno, la luna in un segno amico vi consente di iniziare con il piede giusto questa giornata. Siete ottimisti e pronti ad affrontare i problemi uno alla volta. Acquario, la luna in questa posizione non è mai buona. Oggi lo sarà ancora meno perché va ad amplificare una crisi che già da qualche tempo serpeggia nella coppia. Pesci, potete giocarvi tutte le vostre carte sul lavoro, presentare nuovi progetti, chiedere miglioramenti economici. Insomma, dovete farvi avanti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azzus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azzus.